Sì, con Jean Macengault, tre protagonisti in campo, e anche con tanti tifosi personali. Sono i tuoi nipotini, davvero fantastici. Grazie. Jean, ti chiedo anche qualcosa sulla partita. Quanto è importante questo punto? Perché soprattutto nel secondo tempo avete sofferto anche per restare aggrappati alla partita. Sì, sì, era un buon punto, era una buona partita. Abbiamo visto un buon Udinese con idee e soprattutto un primo tempo ottimo. Ti chiedo anche dal punto di vista del morale quanto può essere importante per rilanciarsi in classifica questo pareggio. Sì, per la classifica è molto importante perché abbiamo perso tre punti. Non perso, però dobbiamo giocare questa partita. e era molto importante per noi di vincere dopo la sconfitta col Verona. Ti chiedo anche qualcosa sulla tua partita. Hai avuto anche tu la sensazione che sei cresciuto col passare dei minuti, nel secondo tempo anche calciato in porta, sfiorando anche un bel gol? Sì, ho sentito che sono crescendo e devo fare ancora di più, però mi sono sentito bene nel campo con tutti i minuti che ho fatto e in generale sono più confortabile. L'ultima e poi ti lascio con i tuoi nipotini. Quanto ti sei trovato bene anche a giocare col tuo Cooper Eira che rientrava a centrocampo? Siete un po' migliorati tutti, cresciuti tutti insieme? Sì, lui è un giocatore importante per noi e lui fa bene a tutti e è facile di giocare con giocatori di qualità come lui.